Nuova linea di pasta senza glutine Abbiamo selezionato una linea di pasta senza glutine di altissima qualità composta da 5 referenze Lasagni Spaghetti Tagliatelle Rigatoni E penne Questa pasta secca e senza glutine uova, latte e soia È ottenuta da un mix di farine selezionate di mais e riso e lavorata artigianalmente mediante trafilatura al bronzo e lenta essicazione Tagliatelle e spaghetti sono confezionati nella tradizionale composizione a nido Per quanto riguarda le lasagne consigliamo una precottura molto al dente in acqua bollente salata per 6 minuti Successivamente le raffreddiamo in acqua fredda e le asciughiamo con delicatezza Continuiamo con la classica preparazione delle lasagne per ultimare la cottura in forno Sono ottime anche per la preparazione di cannelloni ripieni Grazie a tutti Grazie a tutti